vieni purtroppo quel gioco mi ruba troppo tempo rust 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 che gioco ma sono le fasce taglia questo è ancora lì su desi su questo è completamente pieno ha cambiato tantissimo ma sempre quello lì sempre quello lì sempre sempre fottutamente full ma pure alle due del mattino stano tra le 4 c'erano trentasei persone pozzo di gente mi serve scorso allora mi unisco mi unisco arrivo avete scontato gente no penope che gente che deve gestare scarpe coltello scarpe aggiustati le scarpe aggiustati il coltello hanno fatto qualche aggiornamento se non sono solo 1.6 ci sono gli orsi ora io si hanno migliorato le leggi in atmosferici puoi pescare ma insomma la mappa nuova che è che è successo un flop non c'è un tipo c'è un tipo di cosa dove la foto 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 casa dietro la casa quale 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 cosa che lo porto non c'è un blu zaino blu indio visto il giro di dietro se ci ho visto è alla polis farà vivente ragazzi mario mario sforzo c'è la polis dietro e dentro dentro polis e per la polis e dentro la polis e l'ho visto accettiamola tu mi fiderai lato di black stai zitto sono morto in maniera assurda c'entos come se non c'è spuglio tu se non ce ne sono qua sopra qua sopra qua qua proprio sotto la polis se vado al palazzo di fronte tu dici che riesco a vederlo c'è l'uscita sul retro la polis 556 per mauro qua non si sale di occhiano dove sei tu ed? io nel palazzo di fronte sto uscendo morto dove siete? oh è dentro è dentro ho sentito la porta aprirsi stavo prendendo e chiudendo porte io sono dietro ti ho visto dove sei black allora io tengo dimmi la porta davanti si vedi che potrebbe scendere sul tetto è lui che si muove non ecco è sul tetto ragazzi si è armato eh ti sento con l'arma in mano mi ha visto credo si ha cambiato arma credo cambia arma si di vedere mi ha visto oh granata sta lanciando una granata ok io sono nel palazzo ok io sono nel palazzo ma non l'ha lanciata? no non l'ha lanciata più ha cambiato arma si è sempre lì vedete se avete una linea di tiro ho sparato no no linea di tiro su questo palazzo ma vi ho visti? no non lo so credo ma ora ma dove sta dove sta puntando lo stronzo? non lo so non lo vedo ah è andato dall'altra parte quindi sul lato destro dove? si si lato destro frontale destro si si e sei scelto? se sei dietro è il lato destro è rientrato credo che vada proprio sul centrale o torna di là non mi ha visto se guarda l'intorno non mi ha visto non sa dove sono dove sei tu Ed? io in un palazzo sono in un palazzo però se mi piego io riesco a vedere andrea controlla la uscita sul retro si è dentro? ok la frontale ce l'hai tu vero Ed? si si sta allora praticamente piano intermedio lato destro lato destro rispetto a... se sei dietro è il tuo sinistro sei dietro è il tuo sinistro ok è fuori? no no piano intermedio ok sempre piano intermedio è passato dall'altro lato ho visto un'altra testa oh c'è uno zombie dentro possibile? non lo sento lo zombie no 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 sta cercando di capire dove sono andato capito? se esce è scelto sul retro ma... si muove sempre se no gli sparano alto destro e il mio sinistro si ancora lì Ed? si 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 muove continuamente non gli provo a sparare tu Andrea teni occhio l'uscita posteriore non ti muovere da là credo che ora si sia tranquillitato non ci sono mai sparato se n'è andato perché dov'è? dov'è? ancora te non lo vedo è uscito è uscito morto ok adesso giustamente arrivano tutti gli zombie della matto sono qui sul retro dov'è? SG5 eh c'è tanta roba questa c'è un caricatore M4 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 fanno tutti gli sboroni fanno si è vero c'è un sacco di roba soprattutto carne vieni vieni c'è tanta roba pure per te dove l'hai ucciso? sono moretto c'è una cintura Ed vieni vieni dentro no no Ed vieni qua dietro 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 qui vabbia avanti vabbia avanti vabbia avanti madonna quante futile c'ha questa eh ma c'ha tanta inutilità eh beh mo si è buono eh prendi prendi no nel senso boh non è armato in maniera intelligente eh però no no vabbè medicina è un franchino non è un franchino no maledetti franchino 556 vi lascio a terra il pollo prendete ragazzi ho trovato un po' fa' c'ha tanta carne questa tanta prendete io il mosin ma aveva visto come qua la batteria rovinata funziona lo stesso? si oh sparano qui vicino raga dai veloci su eh la batteria funziona lo stesso? si che c'ha un mosin si c'ha un mosin si prendi i proiettili lsg5 head è quello che sto facendo ok aspetti ci vuoi cose per mettere ok che devo prendere più il mosin la carne si dai prendo un po' di carne non è acceso tento si è mutato c c c c c c c dai dai 5 5 6 prendeteli ma non sto a posto ma questi traccianti è BK l'hai troppato tu qua terra? eh lo buttò sul tetto dove è finito? vedo qua per terra ecco c 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 carne e raga ne avete? c c Comunque c'è stato uno scontro a fuoco con qualcuno Siete voi, sì? Cosa? Ha cambiato armi? Ha cambiato armi Sì, stesso sono io A posto? Ci spostiamo? Vai, 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 vai Dai Che giro vogliamo qua? Non abbina dovevo dire Se lì andiamo verso gli spari Ok, dai, vai Non puoi andare verso il spari Sì, siamo sulla strada che costeggia il fiume Ti vedo, ti vedo Ti vedo Dove cazzo stavo sotto il tempo Gli spari può essere che sta alla zona industriale Sì Anche le tende ci stanno No, no, no Ecco le, ecco le, ecco le Di una casa rossa Di una casa rossa Sul crinale Ah, merda Facci il giro Tenetelo dopo Tenetelo dopo Mettene nel cespuglio Eccole, salite, 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 salito Al cespuglio, Mauro Al cespuglio Non lo vedo È sceso Ok, lo vedo Preso In pieno C'è un altro, c'è un altro C'è un altro Uno con la kille è morto È dietro la casa L'ho preso È dietro la casa Attento ai zombie Ed, fai secchi i zombie No, è black La c'è di stand È andato la casa verde Casa verde col pianoforte Casa verde col pianoforte Attenzione le finestre Quello con la kille ho preso in testa Non lo preoccupato È morto È morto Vaffanculo È quello L'ho itato, l'ho itato, Mauro È, 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 è La tua destra, la tua destra Casa verde col pianoforte Ma non gelare il pianoforte quella casa Ok, quella davanti a te Ma è entrato e è uscito Eh, l'ho visto dietro Allora, l'entrata la vedo io Fate il giro dietro voi Eh, ci sta il fiume Porca troia Devo attraversare L'ho preso comunque col tundra Sono io, Andrea Qua, attraversa qua Attraversa No, 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 no Vado io, vado io Vai, vai, vai Attenzione Dai, salta, salta Non capisco se sti passi sono uno zombie Ah, è comunque completo nero lo stronzo, eh Quando ci siete di te Eh, potrebbe essere ovunque È andato verso la zona militare È andato verso la zona industriale Su questo non ci piove Non mi cambia caricatore Non mi cambia caricatore, porca troia Mi si è buggato, merda Mannaggia, Eva Ah, anche un fucile con la ghili, lo stronzo Sì, sì Non ti preoccupate, però Lettli Non fai una visita a quello Tendos Ehi, ehi Tendos Ho finito, ho finito di scari, asso per entrare Ah, ok Dove stiamo? Noi siamo in fight Abbiamo ammazzato Sì, ho preso uno in testa con la ghili Ah, che bello Dopo che l'ho preso io Quindi praticamente io dovrei avere già il server salvato Sì, ok Siamo a Cerno, eh Questo server, direzze, il sistema Eppure io dovrei essere a elettro, mi sembra Vabbè, vabbè, prosegui Vabbè, sono vicino, diciamo Io non vedo il movimento dietro quella a casa Dietro lo vedo io Lo vedo io Cattola, ci sta la coda di 20 persone Voglio Eh Ragazzi, credo Credo che sia andato Sei tu? Sei tu davanti, Ed? Sì, sì, di lato Sì Dietro non c'è nessuno Eh, ma non è che si è chiuso in un gabbiotto Eh Tu vado ad aprirne uno Ti vedo, Ed Forse è qua C'è, ci sono delle bandade Delle bende buttate a te C'è un barile Questo che ha slogato qui Eh, però non c'è nessuno Che l'ho ferito, ho visto il sangue, ragazzi E ha slogato il bastardo Non lo so Vado a vedere che c'è il tipo, Mauro Sì Quell'altro gabbiotto è vuoto po' Ha slogato, Mauro Non lo so, vieni, convergi Ci stanno due bandade lo fate a terra C'è un tundra Tundra fascia NVG Pantone da cacciatore Pantone da pattuglia Copri capo pochili, ho distrutto Porca madonna, ho preso un pieno Io ho venuto qua sulla ferrovia C'è una bella roba Venite, venite No, raga, non siamo tutti lì Uno alla volta, prendi quello che ti serve a te Quando butto Mauro gli altri Guardi, io ti ho visto, ma io so che ci sei tu in ghiglia Beh, ma qui sono più visibili rispetto a Palota C'è un giubbotto d'assalto pure se volete Ma Dennis, trova la gente lì, ancora gioca? Stanno sopra, credo, stiamo giocando a Rambo 6 Erano le sue Ok, no, pensavo che... E' un po' E' piccici, piccici ancora Sì E' un po' Ah, piccici Quindi praticamente i server sono cambiati così Dalla sera alla mattina sono sempre qui Vabbè, può essere pure che sono fine le vacanze No, no, no E' da un mesetto questo server che sta pieno tutto il giorno Ma tutti i fratelli metti sono pieni, se vai guarda Ma c'è ancora quella cosa che Tanta gente, tanto lag? Eh sì Ogni tanto sì Anche se stasera no, non sta laggando, sai Abbiamo raidato tantissime quelle basse Mannaggia Quando è attivo è bello Ma c'è gente ovunque Eh, è proprio quella la bellezza Cioè prima a Balota abbiamo guardato nessuno Abbiamo guidato Balota Una marea, una marea Cioè, ne sono tipo 50 calavori a Balota No, eh Due le palle pille Ma chi ha, l'hai visto il video pubblicato adesso? Ho visto, ho visto, fa paura Hai visto che mi sono passato di sopra? Ho visto, ho visto Allora, qua si è assurdo L'hai grippato qua Ma tu c'hai qualcosa lì che praticamente ti grippa 15 minuti indietro? Oh, faccia la testa a chi la vuole No, no No, no, c'è Mauro che registra con Windows G Continuamente E poi ogni sera taglia i pezzi che vengono adesso Ne butti all'ora Ma se vai su YouTube Cioè, abbiamo messo dei video Sì, abbiamo fatto il canale Scusate, avevi messo, l'hanno visto brutto il link? No, se vuoi andare a giustizio No, di un grado al che ne gara Ah, ok Vado a trovare Sì 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 Sì, ovvio per la spesa di tundra Quanti numeri fa Sto facendo a me Non è venuto 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 a me Sì, sono morti e non ci hanno capito niente Non ci hanno capito niente Niente Esatto Prima gli è arrivato il proiettile Poi sono Oh, io sono full equip Buono Ehm, sono, sono Dovrei essere Electro Aspetta, ve lo dico subito Che mi curo Che sto perdendo sangue Ah, come? Perché ne sbaglio? Sono slogato adesso Sai che lascia le scarpe rotte No, non so perché Sto perdendo sangue Oh, a te Dica Stai lasciando roba Quella Eh sì Ma che c'è qualcosa per me Eh sì Fai a vedere C'è tanta roba Dai, dai, dai Opprisciatemi Ma Black Mi devi coprire dall'altro lato Perché qui c'è Vabbè che io la metto qua No, le pestazioni sono aumentate comunque Sì, evidentemente Porca miseria Ed, vuoi il tundra Eh, siamo di selva? Sì Tieni, c'è tantissi proietti Dandolo, stronzo Tieni Questo era quello che sparava Dalla collina del Valota Tieni, Ed C'è tantissi proietti pure Raccoglite Mauro, la ghilli per il fucilo Vuoi tu? No, no No, no Sono fuggito Stasera crepo Eccolo Eh, se l'è menata No, non sono capace Di intendere di volere Ma te Mauro, e da quando siamo Arrivati qua Che dici Stasera crepo Hai crepato tutti Hai crepato tutti Quindi butto via il Mosi Sono crepati tutti Tranne che te Porca troia Vaffan come Toccando dei coglioni Vaffan Ho Ho